Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia a tratti tra Santa Croce, Sull'Arno e Montopoli-Valdarno Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta A Firenze in Lungarno Soderini-Guicciardini per lavori all'illuminazione, restringimenti di carreggiata e chiusura del marciapiede a tratti Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Buongiorno